Aspettiamo un porto decisamente diverso, un porto che si chiami Porto. Parole dure da parte dell'amministratore delegato di SNAV che annuncia grosse perplessità per la stagione che si apre, problemi di fondali e numeri non confortanti. A Pescara manca il pescaggio che è la cosa più importante di ogni porto, noi abbiamo bisogno di un battente di 5-6 metri d'acqua e oggi ce ne abbiamo 3. Per quanto riguarda il flusso dei passeggeri è soddisfacente per SNAV? No, assolutamente no, però ripeto stiamo facendo quest'ultimo tentativo nella speranza di fare i numeri che ci porti almeno a un break even, ma se non cambia un po' la struttura portuale credo che l'anno prossimo ci saremo più. Anche il presidente della Camera di Commercio ricorda lo sforzo fatto, soprattutto economico, per sostenere la presenza della società di navigazione ad alta velocità. Novità che andremo direttamente sull'isola che è il principale attrattore della costa croata, che è la meta più scelta dai flussi turistici che è appunto Qvar, con un mezzo che appunto porta solo passeggeri. L'ultimo anno che la Camera di Commercio ha questo contratto con SNAV è un anno di chiusura che ci dà la soddisfazione di aver tenuto in vita questo collegamento. I problemi sono conosciuti, sono noti. L'attesa è quella di un intervento che rende i fondali più profondi, come da anni chiedono a gran voce tutti i rappresentanti del comparto. Lamentano l'assenza di un porto con un giusto pescaggio e anche l'assenza di numeri per la SNAV e si rivolgono al governatore? Ma allora per quanto riguarda il porto stiamo facendo i miracoli. Abbiamo assegnato qualcosa come 15 milioni di euro in aggiunto ai 3 milioni e mezzo già appaltati. 15 milioni andranno in gara nei prossimi giorni, poiché finalmente il piano regolatore portuale ha conosciuto la piena maturità da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. È intervenuta questa maturità perché il governo Renzi, con Matteo Renzi a capo, ha saputo produrre la madia, la norma della madia che rivoluziona i tempi di istruttoria del Consiglio Superiore.